Sei mesi di tempo per mettersi in regola, poi Acea o adempie a quanto previsto dal contratto con i comuni della provincia di Frosinone oppure se ne deve andare e lasciare le condotte a qualcun altro. Lo hanno deciso i 75 sindaci che hanno partecipato all'assemblea che si è riunita nel pomeriggio all'interno del palazzo di piazza Gramsci, assenti solo in undici. La discussione è andata avanti per ore fossilizzandosi sostanzialmente su un tema, quanti giorni concedere ad Acea per rispettare il contratto. Sindaci dentro, cittadini fuori, nel piazzale davanti a Palazzo Iacobucci per invocare la cacciata del gestore. Circa 300 persone chiamate a raccolta dalle associazioni ma arrivate anche spontaneamente, esasperate dalle bollette oramai salatissime, dalle fatture che arrivano ormai scadute, dai call center che non risolvono i problemi, dai continui disservizi. Così tanta gente che per motivi di ordine pubblico non gli è stato concesso di entrare. All'interno intanto i sindaci tra le 14 e 30 e le 16 mettevano a punto le strategie individuate nei giorni scorsi. In base all'area politica di appartenenza si sono riuniti prima dell'inizio dell'assemblea e hanno avanzato 12 proposte di correzione. L'aula si è incendiata quando il presidente dell'assemblea, supportato dalla segreteria tecnica, ha sostenuto che bisognava votare anche la nuova tariffa dell'acqua perché sostenevano in quel modo c'erano tutti i criteri necessari per poter calcolare le penali a carico di Acea. Ma i sindaci si sono rivoltati. Il sindaco di Supino, Sandro Foglietta, si è letteralmente messo di traverso sostenendo che la votazione della tariffa non era scritta da nessuna parte nell'ordine del giorno e quindi non se ne faceva nulla. Sull'ipotesi di fusione tra le società che gestiscono l'acqua a Frosinone in provincia di Roma, all'unanimità i sindaci hanno detto no. E poi il punto caldo, la rescissione del contratto. Un emendamento dei sindaci di Forza Italia, con primo firmatario Nicola Ottaviani, proponeva di concedere 90 giorni. Stesso termine indicato dei sindaci che fanno riferimento al loro collega di Ceccano, Roberto Caligiore, ma è stato rispinto dal 58 per cento dell'assemblea. Alla fine è passato il termine di 180 giorni, suggerito dalla segreteria tecnico-organizzativa e sostenuto in aula dal sindaco di Ferentino e presidente dell'assemblea Antonio Pompeo. Di fatto è il primo passo dell'iter di rescissione del contratto. I sindaci contestano ad Acea le sue inadempienze, gli concedono sei mesi per sistemare, se non lo fa si rescinde il contratto. Ma sulla votazione pesa adesso una questione di legittimità. Infatti non si è proceduto per chiamata nominale dei sindaci uno a uno, ma si è fatto per acclamazione alzando la mano. Tutti a favore e solo il sindaco di San Giovanni in carico, Antonio Salvati, contrario. Ma non perché fosse a favore di Acea, bensì proprio per una questione di legittimità. Ha detto i suoi colleghi che in quel modo si regalava ad Acea la possibilità di contestare il voto in quanto non c'era il numero dei presenti a certificare la validità della votazione. Insomma bisognava procedere, dice Salvati, a uno a uno e non per acclamazione. Per ora si va avanti così. 180 giorni, salvo ricorsi.